Vi racconto Gigi Riva. Gigi Riva è stato il primo marcatore di ogni epoca del calcio italiano, per squadra nazionale in Italia con 35 gol, in un'epoca in cui c'erano le autoreti, ovvero se qualcuno deviava la palla il gol non era il tuo, se qualcuno deviava il pallone in porta. Oggi si è tirato nello specchio, il gol è tuo, c'erano i palloni di allora molto più pesanti, si è rotto due volte la gamba giocando in nazionale, il suo assistito della junior, dell'under 21 di allora, perché lui è un giocatore di serie C degli anni 60, gioca a Legnano in provincia, eppure gioca nella nazionale junior, sarebbe circa, abbiamo detto, l'under 21 di oggi. Ebbene, a quell'epoca il suo allenatore di allona Galluzzi diceva di lui un qualche cosa di alquanto importante, una frase che io considero emblematica, che è un po' il DNA della storia di Gigi Riva, dove gli altri facevano fatica a mettere il piede, lui ci metteva la testa.